Ciao a tutti No raga Non possiamo passare? No non possiamo passare di qua Oddio se viene qui Oh 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 Di qua di qua No qui c'è la manovella Facciamolo prima allontanare Vattene please Fortunatamente che siamo caduti sopra questa valigia Perché non vorrei proprio sapere Che fine avremmo fatto Non so se ora ci sente Lanciala sta roba Raga non la lancia Raga la devi lanciare raga Perché non la lanci Lanciala Santo cielo Lanciala Senti Beppa No Ecco questo l'ha lanciato però Ho paura che ci senta Ah no Mi sa chi sta venendo? Finch'io dalla spegne Beh basta Spegnila Ah no ma l'ha lasciato aperto qui Ah no ma l'ha lasciato aperto qui Ah no c'è Speriamo che la Beh la tv ancora non l'ha spenta Pensavo si arrabbiasse se Ok Dov'è eccola Però mi sa che adesso senti Perché non so cosa faremo Vai Eccolo Togliti Oh mamma mia Dai salta Meglio non passare per di là Non mi convince parecchio Ok Mi sa che è qui No Ho sentito No Ok Ah dobbiamo spingerlo Ok Però più di così Non lo possiamo spingere Ovvio Però Ok Però Ora che C'è Ah ok Sì sì Ad aprire la porta Ovviamente Spingiamola ancora Un po' più di qua Ok No basta Basta Devi saltare Ok 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 Non devo Ok Che prima sono morta Vabbè Lasciamo stare Sai che lì Sono dei corpicini Che non mi piacciono Tantissimo Poveri bambini Non capisco perché Non l'abbiamo salvati Però Avrà le sue ragioni Sta bambina E ci sono anche dei rumori Non piacevoli Oh Vai No Ta da No ok Ah Oh mamma mia Ah 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 Ragazzi No Forse Non devo fare Il rumore Eh no Allora Sei un pezzo Di me Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mi sa Che ci sono altre parti Però Ah no Ok Oh mamma mia Ehi Oh Ok 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 Quanto ce l'allunghi Le braccia Però Basta Vattene Eh vabbè Ma che cos'è Raga Cos'è Non capisco Che devo fare Che devo fare Devo semplicemente Evitarlo Non lo so Ma Non capisco se Prima o poi Ci dirà Quella roba O se Devo fare Devo fare Qualcosa Però Non capisco Cosa Mi sa che devo fare Io qualcosa Però Oh mio Dio Non so cosa E no Perché la mano Si avvicina Là Capito Oh Oh Basta 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 Ancora Ok ragazzi Comunque È così che dobbiamo fare Dobbiamo Semplicemente Continuare a farlo Wow Wow Cosa ho evitato Però ora L'ho fatto Stavo cercando Cioè Ho cliccato a rettima Non andava No Ok Ho un'ansia tremenda Gli abbiamo Staccato Le braccia Però Si muoverà ancora Ah non siamo Noi che le stiamo muovendo Oh mamma mia Ragazzi L'abbiamo ucciso Allora Wow Non pensavo Potessimo ucciderle In questo modo Pensavo Che Ci perseguitavamo Ok Ok Ce ne siamo andati da lei Ma ci siamo svegliati Da un'altra parte Ok Beh Comunque ragazzi Vi so che abbiamo sconfitto Il mostro Aspettate Giovedì prossimo A mezzogiorno Che esce un altro video Eh già Quindi Io direi che possiamo Fierare un abbraccio In questo episodio Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti E iscrivetevi al canale